Pace del Signore, qualche giorno fa passa l'avverbio, casualmente, mi sono imbattuto in un passo del Libro degli Atti e questo passo ho scoperto dopo, essere adatto a questa riunione. Leggiamo nel Libro degli Atti degli Apostoli, nel capitolo 14, dal versetto 5 Atti degli Apostoli, capitolo 14, dal versetto 5 Ma essendo scoppiato un muoto dei gentili e dei giudei coi loro capi per recare danno agli apostoli e lapidarli, questi, conosciuta la cosa, fuggirono nella città di Licaonia, Listra ed Erba e nel paese d'intorno e qui si misero a evangelizzare. Ora in Listra c'era un certo uomo, impotente nei piedi, che stava sempre seduto, essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede per essere sanato, disse ad alta voce, alzati dritto in piedi, ed egli saltò su e si mise a camminare. E le folle, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua licaonica, gli dei hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi. E chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, o di Zeus, il cui tempio era all'entrata della città, mandò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le folle. Ma gli apostoli, Barnaba e Paolo, udito questo, si stracciarono i vestiti e saltarono in mezzo alla moltitudine esclamando, uomini, perché fate queste cose. Anche noi siamo uomini della stessa natura vostra e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'idio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, che nelle età passate ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. E dicendo questo, a mala pena trattennero le folle dal sacrificare loro. Qui arrestiamo la lettura di un racconto avvincente che ha come scenario una delle zone forse più impervie di quella che oggi noi chiamiamo Turchia. Ma lasciamo velocemente la geografia e andiamo invece al testo. Dicevo poco fa, dopo, ho capito che questo brano si adatta al carattere di questa riunione, perché è un brano nel quale si parla di evangelizzazione, ma a proposito dell'evangelizzazione, nello svolgersi, nello sviluppo dei fatti, abbiamo delle importanti indicazioni attuali che Paolo mette in atto, ma che noi siamo chiamati a seguire. Ho fatto un breve calcolo, personale quindi del tutto opinabile, ho fatto un breve calcolo con alcuni giovani. E ho notato che quest'anno la prima classe dell'Istituto Biblico Italiano è composta da al 98% da figlioli di credenti. Soltanto due non sono figlioli di credenti. noi corriamo il rischio di crescere numericamente, soprattutto per via biologica. Il Signore sia lodato per i figlioli dei credenti che accettano Gesù. Non mi fraintendete, io voglio che il Signore salvi i miei figli. Ma è anche vero che contemporaneamente non dobbiamo mai dimenticare che l'annuncio dell'Evangelo non è soltanto interno, innanzitutto è esterno. Paolo fu costretto ad abbandonare la città nella quale si trovava, Iconio, e probabilmente questo nome non dice granché a nessuno di noi. Ed è costretto in seguito ad una persecuzione a recarsi in Licaonia, ed è un nome poco incoraggiante. Licaonia in greco vuol dire terra dei lupi. Non degli usignoli, dei cardellini, dei micetti. Mi pare che dall'altra parte ci sia. Ma era la terra dei lupi. Sarà un caso? Possiamo ascrivere questo all'ironia di Dio? Non aveva detto Gesù circa 13 anni, 15 anni prima, io vi mando come agnelli, come pecore in mezzo ai lupi? Ed ecco che i due si ritrovano in questo luogo e entrando in questa zona impervia, in mezzo a persone che mai avevano sentito parlare dell'Evangelo, mentre questi due agnellini si ritrovano in mezzo ai lupi, belano. E abbiamo letto nel passo che qui si misero ad evangelizzare. Prima considerazione riguarda l'urgenza, l'urgenza insopprimibile dell'annuncio dell'Evangelo. I fratelli mi hanno già preceduto, ma io ripeto, l'evangelizzazione non è un'attività della Chiesa del Signore. L'evangelizzazione è un comando del Signore della Chiesa. Ma permettetemi cari, se questo non è l'annuncio dell'Evangelo, frutto di un'urgenza interiore, se non è frutto di un fuoco interiore, si risolverà sempre in un insieme di riunioni più o meno noiose e soprattutto più o meno stanche. Gli avevano messo le mani addosso, avevano rischiato la vita, non perdono, e in questo caso, scusate il ribaltamento, il lupo non perde il pelo, in questo caso gli agnelli, le pecore, non perdono la lana e ritornano a evangelizzare. Perché? Perché Paolo? Ma chi te lo fa fare? Per quale motivo hai questo insoffremibile desiderio di evangelizzare? Mi rivolgo ai più giovani, non ascoltate mai i vecchi come me, se ve ne sono, ma sono sicuro che non ve ne saranno, non li ascoltate mai quando vi dicono risparmiati, non li ascoltate mai quando vi dicono vacci piano, poi ti passa, non li ascoltate mai quando vi dicono fai attenzione che grandi saranno le delusioni, non è da parte di Dio. Paolo aveva rischiato la vita e lì la rischiò per la seconda volta, con la differenza che questa volta venne anche lapidato, ma dentro ti era un grido, guai a me se non evangelizzo. La prima richiesta che dobbiamo fare al Signore è questa, se non ce l'abbiamo dentro. Signore, fa che dall'animo mio venga fuori da parte Tua questa urgenza, questo desiderio, questa passione, questo fuoco, questo non poter farne a meno annunciare Cristo Crucifisso, sapienza e potenza di Dio. E se questo fuoco si è attenuato, chiediamo al Signore che lo attizzi, altrimenti tutte le nostre parole saranno stanche, conformistiche, affermazioni correttamente evangelico-pentecostali, ma inutili sotto il profilo spirituale. Noi possiamo dire ad una persona ti amo, ma possiamo anche dirgli ti amo. Noi possiamo dire Cristo è morto in croce per te, possiamo anche dire Cristo è morto in croce per te e vi è salvezza in Gesù. E lo diciamo con tutto il cuore, perché noi per primi siamo stati salvati. È l'urgenza che in qualche modo rende, se volete anche, passatemi l'aggettivo, sconsiderati, non calcolatori. Dopo che il Signore mi battezzò nello Spirito Santo, pochi mesi dopo avermi salvato, ho fatto, e non ve lo dico perché mi dicono che mi registrano, quindi devo fare attenzione, ho fatto una serie di, ho avuto una serie di sbilanciamenti in classe, in famiglia, che oggi non avrei più, ma dei quali non mi vergogno, perché dovevo dire che Gesù mi aveva salvato. Qualcuno si avvicinò e mi disse, salvo, vai, tanto ti passa. Guai se passasse. Gesù è lo stesso ieri e oggi in eterno. Se non passa Gesù, non può passare la salvezza di Gesù in noi, ma non può passare l'amore verso il Signore Gesù. Un'urgenza che non ti fa essere calcolatore, ha esattamente il contrario e a questa urgenza segue perciò l'evangelizzazione. È una parola che non si può tradurre in italiano tal che è una riproduzione del termine del verbo in greco. Evangelizzazione. Andarono lì in mezzo ai lupi a raccontare la buona notizia. Quindi era un annuncio ottimistico, ma ottimistico perché era intriso della fede nel Signore. Era un annuncio allegro, gioioso nel senso spirituale del termine, perché era la buona notizia. Era un annuncio nuovo, perché era la buona notizia che non conoscevano. Ma perché? Voi pensate che nella nostra cristiana Italia non vi sia ancora l'esigenza di annunciare con pienezza di fede la buona notizia di Cristo Gesù? A chi non la conosce? Evangelizzarono. Quanto ci preoccupiamo troppo e sbagliamo. Ci preoccupiamo di essere in qualche modo accettine la società. Vorremmo entrare nel salotto buono della cultura. Vorremmo essere invitati al tavolo ampio di coloro che contano. No. Vorremmo che altri ci dicessero come suonano loro, che bei locali di culto che hanno, come predicano, come sono dotti, come sono generosi, quante opere sociali. No. No. C'è una cosa che nessuno può fare se non colui che è stato salvato. Evangelizzare. L'urgenza. Chiediamoci perciò se nell'animo abbiamo questa urgenza insopprimibile, questo desiderio che viene dal cielo, questa forza che Dio ci ha dato, guai a me se non evangelizzo. Ma questo annuncio non è il lancio del pane sulle acque. Avete mai visto come si fa? Sì. Nelle grandi vasche dove ci sono i pesciolini, si buttano le mollichine di pane e vengono i pesciolini a mangiare. L'annuncio dell'Evangelo non assomiglia a questo gesto, a tutt'altro. In quanto seguaci di Gesù, noi non ci aspettiamo l'eventualità che qualcuno si converta. Noi crediamo nella possibilità che qualcuno accetti Gesù. Così qualcuno udì appunto Paolo che parlava, non d'altro che dell'Evangelo, della buona notizia, e qualcuno udì parlare Paolo, era uno zoppo fin dalla nascita, il quale fissati Paolo gli occhi in lui e vedendo che aveva fede da essere sanato. Annunciare l'Evangelo non vuol dire soltanto provare l'urgenza, avere l'urgenza, ma vuol dire anche farlo con la confidenza che l'annuncio dell'Evangelo genera la fede. La fede viene dall'ascolto della parola di Dio. Cos'era successo? Cos'era accaduto? Paolo non l'aveva calcolato, Paolo non l'aveva preventivato, Paolo non aveva stabilito step by step, si dice così oggi, passo dopo passo, non aveva stabilito quello che doveva succedere. ora predico, dopo faccio l'appello, quindi intorno il cantico, dopo ancora la gente si convertirà e dopo dirò che dieci si sono convertiti. No, no. Mentre parlava il Signore aveva fatto un altro giro e mentre lui parlava di fronte Dio era entrato dalla porta dietro nel cuore dello zoppo. E mentre Paolo parla, vede nell'espressione di quest'uomo che lo ascolta, era lo zoppo, era dunque la persona che aveva più bisogno, ma sapete che succede? Spesso coloro che hanno più bisogno sono le persone più sensibili all'Evangelo. noi vogliamo che si convertano i grandi, noi vogliamo i migliori. Una chiesa, la mia chiesa, la mia comunità, deve essere una comunità culturalmente elevata, socialmente all'altezza. e invece che un corridore, invece che un centometrista, quel giorno il Signore salvò uno zoppo. Ma dentro quel colpo deformato vi era un'anima preziosa agli occhi di Gesù. Io voglio che il Signore salvi Tizio Caes e Impronio e spesso sono le persone peggiori. legate dai vizi peggiori, che ascoltano l'Evangelo. Perché sono forse le persone che hanno più bisogno, o meglio, più si rendono conto del loro bisogno. Ecco che Paolo vede, infatti, guarda l'espressione del volto di quest'uomo e lo guardò negli occhi. Negli occhi, qualcuno dice che gli occhi sono la finestra dell'anima, sarà vero? Lo guarda negli occhi e Paolo vede a discernimento, annunciare l'Evangelo vuol dire non buttare il pane ai pesciolini, né sbattere il pane in faccia alla gente, vuol dire guardare in faccia le persone, aspettando non il risultato della nostra opera, ma aspettando con certezza di fede l'opera di Dio. e lo guardò negli occhi e negli occhi di quell'uomo vide una luce, qualcosa, insomma, si rese conto, e non vi so spiegare cosa fu, si rese conto che quell'uomo aveva fede per essere salvato. Ma un lupo può avere fede. Un pagano può avere fede. Quante volte siamo di malumore perché l'aria condizionata in chiesa non funziona bene? Non canto, faccio lo sciopero del canto. O d'inverno siamo disturbati perché i caloriferi, come si fa un culto al freddo? Come si fa un culto al caldo? La stessa cosa. Quanto siamo presi dalle nostre piccole cose. Dio ci dia grazie ad essere interessati agli occhi degli altri. Quando parliamo di Gesù, guardiamo le persone negli occhi. Dio trova sempre la strada giusta, quella che noi non conosciamo, per creare la fede. E vide che aveva fede per essere guarito. E lo guardò negli occhi. E gli disse ad alta voce, alza diritto in piedi. E il Signore guarisce l'uomo che aveva, non so da quanti minuti o da quante ore, è soltanto ascoltato l'Evangelo. Annunciare l'Evangelo non vuol dire perciò soltanto con urgenza proclamare l'Evangelo. Vuol dire farlo anche con confidenza nell'opera di Dio. Chissà se il Signore salva. No, Signore, salva. Speriamo che vada bene. No, Signore, tu stendi la mano. Sicuramente andrà bene. E se non va bene, pazienza. Andiamo oltre. Si va avanti. Dio opera sempre. Certo che c'è anche il gioco inverso. Speculare. Perché mentre noi guardiamo negli occhi, gli altri guardano negli occhi nostri. Se io, Paolo, guardo negli occhi lo zoppo e vedo che ha fede, lo zoppo che guarda negli occhi miei, che vede? Il dubbio, la stanchezza, la noia? Il primo ad avere fede era Paolo. Il secondo fu lo zoppo. Dio mio, aumentaci la fede. Terzo aspetto, dopo l'urgenza e la confidenza, ed è importante, è la coerenza dottrinale. Perché l'uomo viene guarito e lì succede, come abbiamo già letto, accade un caos. Stavo dicendo un pandemonio, però pare brutto dal pulpito, però non si dice. Una gran confusione. Così che subito, perché capita così, subito saltano fuori i soliti sacerdoti pagani, i quali incominciano a dire, miracolo, miracolo, è stato Giove ed è stato Mercurio. Ti pareva, no? È stato Tizio, è stato Sempronio, è stato il nostro santuario che funziona. E in quel momento iniziano a festeggiare. Saranno Paolo e Barnab a dire, fermi. Attenzione. Paolo, ma smettila, no? Non ti esporre così. Ma tanto il Signore l'ha guarito. Ma tu devi mettere il bollino per dire che è Dio. Il Signore l'ha guarito, è andato bene. E basta con queste polemiche. Devi sempre andare a dire che è stato Dio e non... L'annuncio dell'Evangelo è un annuncio con la colonna vertebrale. Annunciare l'Evangelo non vuol dire buttare le parole a casaccio. Né permetterci lussi che altrove non ci permetteremmo. L'annuncio dell'Evangelo è coerente con il Nuovo Testamento. Non si parla in terza persona di Dio. Si chiama Dio. Non si fa confusione. La salvezza è solo per grazia. I miracoli li fa solo Dio. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato. Tu e la casa tua. E se salta su il sacerdote di Mercurio, di Giove, di Diano, di chi vi pare, sia ben chiaro, noi siamo in dovere di dire no, questa è la verità dell'Evangelo. Non funziona il mimetismo nell'annuncio dell'Evangelo. Non funziona nell'annuncio dell'Evangelo il trasformismo. Non funziona. Potremmo avere forse delle folle che ci ascoltano, ma non vedremo anime rigenerate. L'annuncio dell'Evangelo è chiaro, netto, squisito. Quello è. Ti piace stare con noi? Anche noi piace stare con te. Ma se non credi in Gesù, non ti servirà a nulla. Non dirle queste cose, fratello. Le persone non verranno più in chiesa. Ma il punto non è venire in chiesa, riempire la chiesa, svuotare la chiesa. Il punto è un altro. Il punto è vedere anime venire a Gesù. Quarto, ultimo punto che vorrei toccare stasera. Dopo l'aderenza, la coerenza dottrinale, l'intelligenza spirituale. Quando Paolo è chiamato a parlare, e qui non abbiamo il tempo, fatelo a casa con calma. Confrontate le parole che ora vado velocemente a leggere, con le parole che Paolo pronuncia ad Atene, e con le parole che Paolo pronuncia nelle sinagoge. Notate la differenza che vi è, non nella sostanza, ma nell'esposizione, fra la predicazione che Paolo utilizza nella sinagoga verso coloro che conoscono la Bibbia, e la predicazione che Paolo utilizza verso coloro che non sanno nulla della Bibbia. Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini come voi. e qui è chiaro. Vi predichiamo che vi convertiate, mutiate vita e abbandonate queste divinità e vi convertiate all'iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose. vi convertiate, ha parlato della salvezza, ha parlato dell'iddio creatore e per quegli uomini le divinità non erano creatrici e poi parla dell'iddio che sostiene la storia, gli uomini, di Dio che non si è lasciato senza testimonianza, facendo del bene. Ma fateci caso, non usa dei termini tecnici, usa dei termini comprensibilissimi. Quando annunciamo l'Evangelo a chi mai ha sentito l'Evangelo, non dobbiamo annunciare un Evangelo moderno, contemporaneo, rock, che acchiappa e quindi lo svuotiamo. Dobbiamo annunciare l'Evangelo così com'è, ma nel modo più semplice, più chiaro, più cristallino. Amen? Ci vuole intelligenza spirituale. Tempo fa, ho detto una bugia due minuti fa, ho detto l'ultimo punto e poi finisco, no, non era vero. Tempo fa, alla fine di una riunione venne un signore a parlare, un fratello di un'altra comunità, non ricordo quale, venne a parlarmi e mi disse, dato che a Roma c'è Radio Evangelo, quindi conosceva la mia voce e non ovviamente la mia persona, venne e mi disse, ah ma lei è quello che parla la radio? Come sempre capita, mi squadrono dalla destra ai piedi, mi guardo per dire, ah ma non so che cosa s'aspettano, però evidentemente alla voce non corrisponde l'apparenza fisica, ma questo non ha importanza, non ho mai chiesto chi e cosa s'aspettano per timore di sentirmi ulteriormente umiliato e mi fermo lì. Mi squadrono dalla testa alla piede, mi dice, ah e lei dice sì, bene, io vengo da, nella nostra comunità ultimamente, abbiamo, sa, abbiamo fatto qualcosa per evangelizzare, teniamo dei concerti, non so se erano concerti, delle riunioni rap, con i canti rap, e poi mi fa, mi dà una gommitata, e mi fa, lei lo sa, queste cose acchiappano. Dico che, visto che già mi ero rovinato mezzo approccio, dico lo rovinino completamente, dico già l'ho deluso a metà, ora l'ho deluto, deludo per l'altra metà, gli ho detto, acchiappano chi? Come diceva un predicatore di due secoli fa, pecore convertite o capri divertiti? Annunciare l'Evangelo vuol dire parlare in modo chiaro, semplice, con le parole di tutti i giorni, e raccontare la verità dell'Evangelo. E allora con Paolo, possiamo dire Dio che vi annunciamo, è l'Idio verso il quale vi dovete convertire, non lo dovete riverire, ma verso il quale vi dovete convertire, è l'Idio che ha avuto pazienza, è l'Idio che ha aiutato, è l'Idio creatore, è l'Idio provveditore, è l'Idio che ha tanto amato il mondo e che ha dato il suo unigenito figliuolo, è l'Idio che ti cambia, è l'Idio che ti dà la vita eterna. Credo che parlando così è già chiaro tutto. E' finita una una stagione di evangelizzazione. Avete seminato, avete parlato, state pur certi che ciò che avete fatto lo avete fatto perché il Signore vi ha dato la forza. Voi ora avete dimenticato forse i volti delle persone alle quali avete parlato, Dio? No. Ma non è finito il tempo dell'evangelizzazione, ora ognuno di voi, ognuno di noi è un missionario di Cristo Gesù. Ognuno di noi ha una tenda, un gazebo nel proprio luogo di lavoro, a casa, nella giornata, ma ma tutto questo deve iniziare da un'urgenza, da un fuoco interiore che il Signore accende. Tutto questo deve essere seguito dalla confidenza nell'opera del Signore. La parola genera fede. Signore, fammi vedere occhi pieni di fede. E ancora deve essere però sorretto dalla coerenza dottrinale, fa che quello che dico Signore non sia sbagliato, ma sia secondo la Tua parola. E tutto questo possa essere annunciato con intelligenza spirituale. Aiutami ad essere chiaro. Affilato come una spada a due tagli, chiaro come l'acqua, appassionato come il Tuo figliuolo, soprattutto guidato come un profeta della Tua parola. Chiediamo il capo e preghiamo. Indomabile, inarrestabile, Paolo, Sila, Barnaba, Timoteo, Pietro, Giovanni, Aquila, Priscilla, sembrava che niente e nessuno li potesse fermare.